musica 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 voglio dire cosa c'è in quell'isola, infatti sono sotto a me che c'entassi ahah tanto non credo che ci sia niente di che mi sta laggando la bacca cacchio però è bella quest'isola ma è grande, è più grande della notte si si è più grande, quindi io sono sceso andiamo? wow, che figo, mi piacciono queste cose bella cosa esplorare così quando vedi lo vedete cosa c'è lì c'è un arco ma è un deserta al piazza, questa qui è piena di velociraptor oh no, che ti dice oh Fabio dove sei? dove sei? non hai visto lì in fondo cosa c'è? no dove? quello lì, non l'hai visto quello lì oh cazzo io ho le persone alcodiche si, tu ne hai un po' anche no? se sei pronto madonna, 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 madonna scappa mamma mia, Fabio non è troppo veloce Fabio dobbiamo ucciderlo dobbiamo ucciderlo, torna dalla barca nooo torna alla barca torna alla barca torna alla barca oh cazzo intiegami, intiegami aiuto aiuto sei la barca, dove sta andando? oh no no, anche il raptor aiuta dove sei? ah ah, dove è il raptor cazzo vai vai vai, l'ho ucciso l'ho ucciso vuoi, vuoi fare il giro e sperarli dalla barca? eh, si ahahah dimmi se vedi T-Rex io c'ho gli celli davanti alla faccia ecco va in fondo oh madonna ma che cazzo fa? nooo nooo aspetta, scusa facciamo un attimo la favore a un giro di detenzione eh, aspetta che si sta avvicinando no vabbè non penso che va nell'acqua va nell'acqua scappa scappa ahahah vabbè che è lentissimo però Fabio sparagli frecce narcotiche finchè non scappa eh, io sto sparando ti fermi un attimo ah, mi capisco un cazzo ah mamma che lago ok, dai che lo spingiamo sulla terraferma e continuiamo a sparare le altre frecce vai 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 l'ho preso è caduto anche per terra c'è un altro vicino Luca dov'è? trova, trova del cibo è un sacco, ne ho una sola vai 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 il mio cazzo è? è qua se prendiamo la T-rex mi bagno ti bagno? si cazzo non l'abbiamo tramato cioè non l'abbiamo fatto con codici intanto per loro si picchiano intanto per loro si picchiano io ma nientissimo posso portarla perché? accedi dentro nooo si vabbè ma che cazzo fai? quindi adesso svieni T-rex T-rex ma dai ma dai perché mi segue? sparaflescelo sparaflescelo cazzo scomorevole sete vado a prendere qui dei carnosauri che ha acceso il T-rex per prendere un po' di chitina per fare la pasta cemento per fare la sella per per fare la sella per la T-rex sei felice che hai trovato il T-rex? e l'abbiamo tamato aiuto! cos'è successo? vai che sei andato troppo lontano ah scusa scusa sto tornando lì ah beh stai lì vicino al T-rex eh ma non posso vai avanti non no 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 d'ho mazzo o cosa? puntana ha morti un capo 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 vado a lento aiuto tettami scapissimo mi dispiace mi dispiace mamma mia che volo oh Oh Cosa sei? Oh mamma cara che figata Che bello questo T-Rex No il cibo ce l'ho Eh come cazzo lo facciamo Guarda la barca e guarda il T-Rex Guarda la barca e guarda il T-Rex